Ciao a tutti ragazzi, oggi ragazzi ci troviamo in questo nuovo video e ragazzi oggi faremo un prank al mio papà Allora, vi spiego, in pratica c'è la Swiss Girl che in pratica giusto volte salta così, stavolta io la spegnerò da dietro in pratica lui non immaginarà che io l'ho spenta e quindi dopo voglio vedere cosa fa facendo un po' tipo una rispenta perché tipo sei saltata, vi dico proprio che sei saltata e quindi voglio vedere la sua reazione e poi magari tolgo anche un po' faccio anche saltare la Play, cioè scollego un po' il cavo della Play e spero che funzioni vediamo quando torna perché ora è fuori, quindi ora li stacco e niente ci ritroendo ragazzi, allora la Play non ho spenta, vabbè, scusate però comunque ho spentato un po', potete vedere c'è più un puntino qua, il rosso e quindi spero che funzioni l'altro canale comunque la metterò con mezzo così, però la metto, scusate, che comunque è al 10% quindi non può tornare per tanto quindi spero che funzioni e niente, grazie, urlare allora stavo giocando la Play e in pratica ho in un certo punto, ero io e la Lulu contro altri due e non facendo i centi ho picchiato la manopola contro la cosa e si è spenta è bravo cioè penso che si è rotta è bravo, è stato da corsa, 143 secondo me non è che hai fatto la manopola, secondo me è avanciata, poi si è incazzata l'ho fatto così ecco, quindi hai incazzato sì, sì ecco l'altro ecco, un saluto YouTube ok ragazzi questo video finisce qua pensavo che andava peggio ma invece ha reagito abbastanza bene quindi sono contentissimo e ragazzi iscrivetevi se non l'avete fatto arriviamo a 12 like per il prossimo prank e se no arriviamo a 12 like comunque ciao